Ultimo relatore, Romano Pezzotti, il 22 aprile ci hai fatto vedere un bel mucchio di rottame, adesso non vediamo né te né il rottame. Si riesce a capire, è una situazione come dicevo nella sintesi senza precedenti che necessita di un'analisi molto attenta e molto approfondita senza avere degli elementi storici su cui poter fare delle valutazioni. Però quello che mi sta facendo dedicare tanta analisi è che in 4-5 settimane di produzioni che sono partite un po' sì, un po' no, un po' rilento, un po' buone, abbiamo già identificato due trend. Uno di grande euforia e entusiasmo che si è subito trasformato in un trend di delusione e di negatività perché gli ordini si sono subito esauriti e quindi le previsioni per giugno saranno di produzioni lenti. Oggi la velocità nei prossimi mesi sarà l'elemento più importante per noi che nonostante abbiamo delle aziende commerciali abbiamo dei costi industriali.